Il treno regionale 2577, di Trenord, delle ore 17.10, per Milano Centrale, è in partenza dal binario 1. Ferma a Tresenda Aprica Teglio, Sondrio, Morbegno, Colico, Bellano, Tartavalle Terme, Varenna Esino, Lecco, Monza. Il treno regionale 2577, di Trenord, delle ore 17.11, di Trenord, delle ore 17.11, di Trenord, delle ore 17.11, di Trenord. Il treno regionale 2577, di Trenord, delle ore 17.11, di Trenord, delle ore 17.11, di Trenord. Grazie a tutti. Grazie a tutti.